Ciao e benvenuti alla nostra nuova appuntamento! Oggi vogliamo introducere due nuove cofee da L'Aigno di Gli Speciali. Dopo aver provato i nostri nuovi cofee da L'Aigno di Gli Speciali, in una sessione di cappella, proprio come tutti gli semplici, testiamo e approviamo prima di comprare. Questo processo ci permette di evaluare la qualità del cofee, per controllare se c'è un'effetto di consistenza, e così via. Questa procedura è la stessa usata nel paese dell'origine, per controllare ogni singolo bacio di cofee, e oggi è regolato da un protocolle come la Specialty Coffee Association Capping Protocol. Questo documento declares ogni singolo passo durante l'evaluazione, iniziando dal gradimento delle piacere verde, allo al processo di cofee, durante il quale è importante rispettare alcun tempo specifico per farlo, e il colore di cofee di cofee. Il tempo di gassare del cofee, dal rottamento al processo di cofee, è un punto importante dei requisiti del protocolle. In order di fare un proprio cappello, dobbiamo seguire il ratio di cofee di 55 grammi per litro di acqua. Per quanto riguarda la grigione, della grigione, ci sono altri parametri più specifici, ed è molto importante grigire ogni singolo cappello di cofee separatamente, evitando grigire tutto il cofee, allo stesso tempo per tutte le cofee di cofee. Questa regola è necessaria per evitare che gli effetti possibili potrebbero essere trasferiti a tutte le cofee di cofee. Nel ultimo, la qualità dell'acqua e il tempo dell'infusione sono altre parti importanti del protocolle. Nel documento, è anche specificato come rilasciare la grigione di cofee di cofee, come come e quando rilasciare durante l'estate dell'evaluazione. In realtà, in questa grigione, dobbiamo rilasciare molti punti, come la qualità dell'aroma, l'amore, l'acidità, la dolcezza, il corpo, i dettagli e così via. Tutti questi ruoli sono importanti per avere il stesso risultato da tutti e per creare un metodo standard per l'evaluazione del cofee. Per raccontare, la copia con l'analisi sensoriale è una tecnica scientifica per controllare il cofee qualità, descrivere e l'evaluare. Il primo cofee che presentiamo oggi è un arabico da Colombia. Questo cofee viene da Aratocca. È un terroir locato nella regione Santander, regione del nord di Colombia. Questa area è una delle nuove aree di cofee. Non è stato rilasciato una rivoluzione nel XVIII secolo per liberarsi dal colonialismo spagnolo. La Pradera e Santa Maria sono gestita da Oscar D'Aza, che ha preso la farmà da suo padre, José Rosario D'Aza. Oscar ha un gruppo di 8 farmà, per cui appartiene la sua famiglia. tutti sono benvenuti organizzati organizzati e benvenuti. È il primo in la regione per finanziare la sua propria certificazione organica, che è qualcosa che la Federazione generalmente pagna. Ha un temperamento internazionale, e è stato questo per imparare la sua proposta a diventare indipendente, essere liberi, a fare la sua proposta e a gestire la sua produzione in linea con la sua visione della crescita di caffè. Ha credo fortemente in la produzione che cresce non meno di 15 diversi specie. Il suo agro forestale va contro la Recomandazione ma sta firmamente parlando. Ha sicuro che la produzione della scena di caffè e la qualità possono solo migliorare il suo caffè. Il caffè è riportato a 1700 m e è una combinazione di castillo, tipica e caturra. È prospettato con tecniche semi-pagliate ed in petio. Mi sento il risultato di cedar, berri e tangerine, in aroma note di almon, grapefruit e lemon. In la cuore è davvero abbastanza con una buona dolce come il cioccolato e l'acidità è complessa con una intensità medio-low intensità. Il corpo è giusto e silky. Questo caffè è meraviglioso nel espresso ma anche nel filtro per il suo equilibrio Il secondo caffè è un microtto di El Salvador produzione da Maurizio Salaverria. Divisadero è il nome del progetto guidato da Maurizio che consiste a portare il caffè di una diversa varia insieme per esprimere con varietà numerose e varietà specifici. Il caffè e la stazione è particolarmente imprensibile. Maurizio prepara tuzioni di caffè con caratteristiche uniche caratteristiche. Il gruppo di cuore è situato in una regione molto bellissima di El Salvador conosce la ruta di bambini. Maurizio è molto attenzionato per usare l'utilizzo ottimo di un modello agroforestry. Il Divisadero è un 6 hectare di una delle farmze di El Salvador l'Himalaya. Questo locato a 1.600 metri circa il livello è plantato principalmente bourbon, catturra, pacca e pacca Marra. Il Divisadero ha un caleo e vulcanico di qualità che produce il caffè molto avvenuto al capo di eccellenza. Per questo microlotto Maurizio è isolato un microlotto di bourbon cultivo a 1.550 metri nel caleo vulcanico dopo la mano catturra catturra. Il caffè è prodotto con tecnica per circa 30 giorni. Il risultato finale è molto impressionante. La prima volta che ho provato il caffè ha venuto il caffè tipico del processo naturale. Il caffè è molto floreal. Il caffè è molto dolore mi ricorda di catturra e catturra. L'acidità è molto equilibrata e tipica del frutto. Il corpo è sirope e velvete con alta intensità. Nel mio opinione questo caffè è eccellente in espresso e anche con sull'acqua. Grazie per la vostra attenzione ricordate che potete trovare questo caffè ma anche tutte le linee di gli speciali nel portal fresco delivery del caffè. Ci aspettiamo nel prossimo video. Ciao!